Musica Benvenuti domani e venerdì 16 novembre, la Chiesa Cattolica fa memoria di Santa Margherita. Vortice Mediterraneo, ma al tempo al sud e sulla Sicilia piogge sulle Adriatiche. In particolare allerta meteo sul Sicilio orientale, Catanese e Siracusano, sulla Calabria ionica, specie il Catanzarese e la Basilicata. Piogge anche sulle regioni Adriatiche, dalle Marche alla Scolano fino alla Puglia, residui su Est Sardinia e rovesci su Cagliaritano, Carboni e Iglesias. Nebbia sulla Valpadana centrale ed occidentale, altrove invece sarà una bella giornata di sole. Sulla campagna arriveranno masse di aria più fredda, provenienti dall'Europa orientale, che riporteranno le temperature sui valori medi del periodo. Il cielo sarà regolarmente nuvoloso o nuvoloso sui monti dell'entroterra, dove ci sarà occasione per qualche pioggia che potrà estendersi anche alle coste, specie in provincia di Salerno. In prossimità delle coste e sulle pianure saranno presenti addensamenti nuvolosi intervallati da schiarite, più frequenti tra le province di Caserta e Napoli. Le temperature sono in netta diminuzione.